Leggere bellissimo e questo è un'invito alla lettura del libro di Nicola Gratteri e Antonio Nicaso intitolato Il Grifone, come la tecnologia sta cambiando il volto dell'andrangheta. Capitolo primo, Holding High Tech. Nell'era dell'informazione tecnologica e dell'automazione, le mafie sono sempre più ibride, flessibili, capaci di operare online e offline, sempre più in bilico tra realtà analogica e virtualità digitale. Sono ormai delle vere e proprie Holding High Tech, ha avvertito qualche anno fa il generale Pasquale Angelo Santo, comandante del raggruppamento operativo speciale, ROS, dei Carabinieri. Intervenendo a un convegno organizzato a Roma dalla fondazione Magna Grecia, il generale Angelo Santo ha spiegato che «Le mafie stanno sfruttando la vulnerabilità dei sistemi informatici per infiltrarsi nelle reti aziendali al fine di estorcere denaro o rubare informazioni sensibili». Fine della citazione Fino a qualche decennio fa, quando si parlava di mafie, l'immagine evocata era quella di uomini dai volti induriti che intimidivano fisicamente le imprese e trafficavano in armi e cocaina. Oggi il numero di hacker e broker al servizio delle mafie è in costante aumento e sembra evidente il rischio che i clan più potenti si stiano infiltrando sempre più nel cuore stesso dell'innovazione tecnologica, cercando di sfruttare il progresso a proprio vantaggio. Come aveva previsto Tim Berners-Lee, l'inventore del World Wide Web, quella che stiamo vivendo è molto più che una trasformazione tecnologica. È una svolta epocale in cui il confine tra il mondo reale e quello virtuale si assottiglia in una nebulosa dai contorni indistinti. Oggi molte delle nostre attività quotidiane, dalle comunicazioni alle transazioni finanziarie, avvengono online. Lo spazio digitale è diventato un terreno fertile anche per le mafie, che hanno imparato a sfruttarne le potenzialità. Non hanno più paura di portare con sé il telefonino pensando di avere in tasca un carabiniere, come ammoniva nel 2013 il boss di un clan d'Indrangheta a Fino Mornasco, in provincia di Como. Negli ultimi decenni il mondo ha subito cambiamenti in quasi tutti gli ambiti della vita umana, grazie soprattutto all'avanzamento tecnologico. Pur rimanendo fedeli a se stessi, anche i mafiosi sono cambiati. Anzi, si sono evoluti, come hanno sempre fatto. In questo libro cercheremo di analizzare l'impatto che simili cambiamenti epocali hanno avuto sulle organizzazioni mafiose, concentrandoci in particolare sull'Andrangheta, l'associazione criminale più estesa, ramificata e potente del mondo, come è stata definita dall'Interpol. Un'organizzazione che, oltre ad avere molteplici interessi leciti e illeciti, è riuscita a infiltrarsi in numerosi settori dell'economia legale e illegale, potendo contare su competenze esterne sempre più evolute. Le ultime inchieste hanno messo in evidenza la capacità dei clan calabresi di sfruttare piattaforme di trading clandestine per acquisire crediti che alcune aziende vantavano nei confronti della pubblica amministrazione, di utilizzare ingegneri informatici e hacker per estorcere denaro, ma soprattutto per creare false fideiussioni e movimentare valuta, anche digitale, da una parte all'altra del mondo. Scenari che fino a qualche anno fa sembravano impensabili. Uno degli hacker che lavorava per conto del clan Megna di Crotone era tedesco. Sta sempre buttato al computer, non si alza mai, diceva di lui il boss Mario Megna, parlando con uno dei suoi uomini. Se vai la sera lo trovi al computer, vai la notte lo trovi al computer. Secondo gli inquirenti, l'hacker in questione era capace di condurre sofisticate operazioni bancarie, essendo riuscito a fondare, acquistare una propria banca in Germania perfettamente operativa. È uno dei tanti esempi di questa saldatura di interessi che vede sempre più attestati sullo stesso fronte i nerd della tecnologia informatica e i boss del narcotraffico e di tante altre attività illecite. L'evoluzione tecnologica Inizia tutto negli anni 90, quando si comincia a diffondere l'uso del fax. Questo strumento, che all'epoca sembra così moderno, apre le porte a una marea di possibilità anche per le organizzazioni criminali. I fax permettono un rapido scambio di informazioni, offrendo un'efficienza senza precedenti nella comunicazione. Poi arriva internet, un'enorme rete che connette il mondo intero. Con essa le informazioni possono essere condivise a distanza di un click. Nel contempo vengono create applicazioni capaci di garantire conversazioni vocali gratuite in tutto il mondo. Per gli altri 30 ci sentiamo su Skype, è il messaggio che fa subito comprendere l'abilità delle mafie di utilizzare le nuove tecnologie per sfuggire all'occhio vigile delle forze dell'ordine. Le generazioni precedenti avevano preferito il cosiddetto walk and talk, con alcuni boss che addirittura andavano a discutere gli affari più importanti camminando sulla battigia, con il rumore delle onde in sottofondo per evitare di essere intercettati. La svolta più significativa di quegli anni però coincide con la decisione di molti clan mafiosi di trasferire alcune delle loro attività online. Le vecchie bische, luoghi di gioco e scommesse illecite, spesso situate in zone appartate o nascoste, vengono spostate sul web, occultando gli ingenti profitti dietro a siti con server in paesi a fiscalità privilegiata. Spuntano pagine web che consentono di navigare tra gli eventi sportivi disponibili e selezionare quelli su cui si desidera scommettere. E vengono creati anche casino virtuali, in cui l'utente può accedere a una vasta gamma di giochi online come il blackjack, roulette, baccarà e slot machine. Diventa un business planetario anche il cosiddetto pezzotto, dal nome di uno degli strumenti, in pratica un decoder, utilizzati per diffondere in rete materiale soggetto a protezione della proprietà intellettuale e in particolar modo eventi sportivi di ogni genere. Si stima che siano oltre 5 milioni gli italiani che si servono di indirizzi pirata per vedere le partite della squadra del cuore. In quegli stessi anni le applicazioni di messaggistica istantanea diventano il nuovo canale di comunicazione preferito dai clan, fornendo una relativa anonimità e la possibilità di criptare i messaggi funzionali ai traffici gestiti in Italia e all'estero. Ma la vera rivoluzione arriva con l'avvento delle piattaforme social, delle criptovalute e del dark web. A questo nuovo scenario i mafiosi, soprattutto quelli più giovani, si adattano rapidamente. I social media forniscono uno strumento di reclutamento e propaganda, mentre le monete digitali offrono un modo per effettuare transazioni finanziarie con un livello di anonimato estremamente elevato. Il dark web, la zona più oscura e meno conosciuta di internet, diventa il luogo di incontro delle menti criminali. Qui le mafie possono vendere droghe, armi e dati rubati, sfuggendo a molte indagini delle forze dell'ordine spesso impossibilitate a scandagliare i meandri del dark web, soprattutto quando i server di questi bazar dell'illecito sono custoditi in paesi tradizionalmente ostili a ogni forma di collaborazione con gli inquirenti occidentali. Da Facebook a TikTok. Nel 2007 si manifestano i primi segnali di una presenza tutt'altro che discreta di individui appartenenti a clan di Camorra sui social media, cui presto si aggiungono esponenti e simpatizzanti delle altre mafie. Facebook all'inizio è un parco giochi, ma anche un potente strumento a doppio taglio. Alcuni latitanti cadono nella trappola della geolocalizzazione e dopo aver pubblicato foto su Facebook vengono stanati e arrestati grazie al Global Positioning System, un processo di identificazione che, sfruttando una rete di satelliti in orbita intorno alla Terra, riesce a rilevare oggetti, dispositivi, persone o altri punti in qualsiasi parte del mondo. A mano a mano che il tempo passa, gruppi, pagine e falsi profili cominciano a proliferare, celebrando boss del passato e film dedicati alla criminalità mafiosa. Facebook diventa quasi subito un veicolo di autopromozione, un palcoscenico virtuale per coloro che cercano potere, ammirazione ed emulazione. E' nel 2012 però che la consapevolezza del web cresce grazie all'acquisizione di nuove conoscenze digitali. Ai vecchi pizzini si affiancano i post sui social media e le minacce diventano virali, amplificate dalla dimensione globale della rete. Mentre il mondo si affaccia su questa nuova realtà, molti mafiosi, attraverso account falsi o anonimi, cominciano anche a diffondere messaggi che hanno come obiettivo quello di ostentare ricchezza e di conseguenza potere. La presenza di esponenti, di organizzazioni mafiose sui social media apre una serie di riflessioni sull'uso più ampio di internet. Nel 2014 a lanciare l'allarme è la Direzione Investigativa Antimafia, DIA, rilevando come la criminalità organizzata sfrutti sempre più internet e in particolare l'online banking per aprire conti anonimi o utilizzare quelli forniti da prestanome, noti come prestaconto o money mule. Sono i primi segnali di un cambiamento profondo nelle strategie operative delle mafie. Nel 2016 sui social media sbarca la Google Generation criminale, quella dei nati a cavallo tra i due secoli. Sono giovani rampanti che portano con sé una nuova mentalità ma anche un approccio innovativo nella gestione delle attività criminali. Vede la luce in quegli anni l'interreale mafioso, una dimensione in cui il reale e il virtuale si fondono, diventando una singola entità, un'estensione della mente stessa come aveva previsto il sociologo francese Jean Baudrillard. Molte minacce social si traducono in agguati fisici e riflettono l'evoluzione di una dinamica sempre più comune nella società moderna, in cui le interazioni e le comunicazioni digitali influenzano e talvolta scatenano eventi concreti del mondo reale. Nel 2017 si registra un significativo cambio di passo con il coinvolgimento di organizzazioni criminali come l'Andrangheta nella movimentazione di ingenti somme di denaro attraverso vari sistemi, tra cui quello della UALA, capace di facilitare il trasferimento di denaro senza l'uso di transazioni bancarie formali. Il concetto è quello del denaro volante, i soldi che si muovono da un paese all'altro senza spostarsi fisicamente grazie al ruolo dei cosiddetti HAWALADAR, gli intermediari che gestiscono i movimenti di questa forma di credito sommerso, prevalentemente utilizzato in Asia e nel Medio Oriente. È un mondo fatto di dati, informazioni, connessioni virtuali e tecnologie avanzate di cui ogni tanto spunta un frammento rivelatore. È il caso dell'operazione European Andrangheta Connection, detta anche Pollino, condotta contemporaneamente in Olanda, Belgio, Germania, Lussemburgo e Italia, grazie alla quale nel 2018 si scoprì che un broker calabrese era pronto a pagare una partita di cocaina ad alcuni narcos brasiliani in bitcoin. L'affare saltò solo perché all'epoca in Brasile quei narcotrafficanti spedizionieri non sapevano come gestire questo tipo di transazione. Nel 2019, sempre la DIA segnala come i flussi monetari di organizzazioni criminali quali l'Andrangheta avessero cominciato a scorrere sempre più nei canali informali, proprio attraverso il circuito delle criptovalute, ma anche di chat, applicazioni telefoniche e carte prepagate. E' uno dei tanti esempi di quest'epoca in cui le scoperte e gli sviluppi tecnologici si avvicendano a ritmi forsennati. Oggi un moderno smartphone ha una capacità di calcolo di gran lunga superiore a quella utilizzata per sbarcare sulla Luna. La stessa intelligenza artificiale, un termine coniato nel 1956 dallo scienziato informatico John McCarthy, sta rivoluzionando diversi settori, dall'assistenza sanitaria alla guida autonoma. I progressi nell'apprendimento automatico e nelle reti neurali profonde stanno permettendo ai computer di svolgere compiti sempre più complessi, come il riconoscimento vocale e facciale, la traduzione automatica e l'analisi di grandi quantità di dati in tempo reale. Google Generation Criminale Con la presenza sempre più massiccia della Google Generation Criminale, le piattaforme social, nel periodo compreso tra il 2016 e il 2020, diventano teatri di una strategia di presidio simile a quella utilizzata nel mondo fisico per spiare i nemici. Nel frattempo, la criminalità organizzata italiana si sposta da Facebook a YouTube e successivamente su Instagram e TikTok, dove i filtri per il rilevamento e il monitoraggio dei contenuti sono inizialmente meno efficaci. Sui social si comincia a fare uso di un linguaggio gergale ricco di dialetti, doppi sensi, simboli grafici e immagini di tatuaggi. I social diventano lo specchio e il motore di un continuo rinnovamento della cultura criminale mafiosa, che ridefinisce vecchi paradigmi e costruisce consenso tramite i contenuti diffusi online. Nel 2018, nei rapporti semestrali della DIA, viene segnalata anche la presenza su alcuni social media dei biking, un gruppo appartenente alla criminalità nigeriana. Attraverso le foto pubblicate sui vari profili Facebook durante le feste, emerge come fossero soliti indossare un cappello di colore rosso come segno distintivo. Cercheremo qui di descrivere questi passaggi citando operazioni di polizia, rapporti ufficiali e testimonianze in grado di mettere in luce, ancora una volta, la straordinaria capacità di adattamento, radicamento e permeazione delle mafie. Lo scopo è quello di comprendere i meccanismi riconducibili alla presenza dei clan mafiosi nel mondo digitale, una realtà complessa che si intreccia con il tessuto sociale, politico, culturale ed economico. È un mondo che richiede lo sviluppo di nuovi saperi, di nuove tecniche d'indagine, ha spiegato Vittorio Rizzi, vice capo vicario della Polizia di Stato, partecipando a un convegno organizzato a Bari in occasione del ventesimo anniversario della nascita di Eurojust, l'agenzia che si propone di migliorare la cooperazione giudiziaria tra i paesi dell'Unione Europea. Il superpoliziotto ha ricordato che, ora più che mai, bisogna essere in grado di intercettare i pizzini del terzo millennio, ovvero la messaggistica su piattaforme criptate dove le organizzazioni criminali pianificano e gestiscono traffici illeciti dalle dimensioni trasnazionali. proprio Eurojust nel suo rapporto annuale del 2022 ha messo in evidenza la continua evoluzione delle organizzazioni criminali che fanno uso di know-how digitale sempre più avanzato per fini illeciti e per rendere impossibile l'identificazione diretta o indiretta degli individui che utilizzano i sistemi informatici. Nel rapporto di Eurojust viene anche evidenziato il cambiamento radicale del modello di business delle organizzazioni criminali trasnazionali le quali si proiettano in una dimensione imprenditoriale finanziaria su scala globale reinvestendo i proventi di reato in molteplici attività economiche tra cui la finanza high-tech grazie anche al serbatoio inesauribile di ricchezze derivanti dai traffici di droga. Infine sempre secondo Eurojust si è notato un crescente aumento dei casi in cui le richieste di sequestro e confisca soprattutto all'estero riguardano portafogli wallet contenenti criptovalute. Questo fenomeno è dovuto al progressivo utilizzo delle criptovalute nel contesto criminale. L'identikit del mafioso nell'era digitale La capacità di adattamento è un elemento intrinseco delle mafie quindi non dovrebbe sorprendere più di tanto la loro abilità nell'evolversi e nell'adeguarsi ai cambiamenti sociali politici ed economici al fine di rafforzare il proprio potere e la propria influenza. Le nuove generazioni sono sempre più emancipate dal punto di vista tecnologico utilizzano i social media fanno continuamente uso di tablet e computer creano profili su piattaforme come facebook youtube instagram e tiktok come mette in evidenza il primo rapporto sulle mafie nell'era digitale promosso dalla fondazione magna grecia i meme hanno cominciato a sostituire i pizzini e gli emoji le vecchie lettere anonime si tratta come si è detto di una trasformazione epocale prima dell'avvento dei social media la comunicazione avveniva su tre livelli verbale con un'incidenza del 7% paraverbale 38% e non verbale 55% l'interpretazione dei segni dei gesti dei messaggi e dei silenzi era un'attività cruciale per i mafiosi poiché raramente mostravano apertamente le proprie emozioni o sentimenti spesso uno sguardo aveva un significato più profondo di tante parole oggi il linguaggio è diventato più immediato quello che prima veniva comunicato attraverso espressioni del corpo ora si traduce in emoticon e hashtag le emoticon aggiungono un livello di espressività alle parole scritte mentre gli hashtag permettono di indicizzare e categorizzare i contenuti online entrambi i linguaggi si caratterizzano per concisione cercando di trasmettere significati complessi in modo rapido ed efficace all'interno dei contesti digitali nei messaggi utilizzati da mafiosi e simpatizzanti spesso si osserva come si è accennato una predominanza dell'estetica della ricchezza rappresentata attraverso una serie di elementi visivi e contenuti che evocano opulenza e stili di vita privilegiati tra gli elementi comuni utilizzati per rappresentare questa narrazione vi sono viaggi prodotti di lusso attività e residenze prestigiose cibi e bevande esclusive abbigliamenti accessori di marca in numerosi video diffusi online i rampolli dei boss si mostrano mentre sorseggiano champagne festeggiano o indossano abiti alla moda tuttavia è importante sottolineare che ciò che viene diffuso sui social media non sempre riflette la realtà di una persona o il suo effettivo livello di ricchezza il modello è quello dei cartelli messicani su tiktok viene narrata la quotidianità dei cosiddetti narco junior che esibiscono la propria vita si sentono più Joker che Batman mentre Batman rappresenta l'ordine la giustizia e la lotta contro il crimine Joker incarna il caos l'anarchia e l'assenza di regole non sembrano cercare i miti storici o metastorici della tradizione ma pagliano adottare quei valori trasmessi attraverso il mito applicandoli a se stessi quella che promuovono è una sorta di post verità la loro grazie alla quale riscrivono la storia ovviamente a proprio vantaggio e a vantaggio delle organizzazioni criminali di cui fanno parte molte voci di mafiosi su Wikipedia sono state più volte alterate con informazioni spesso infondate molto bene questo è tutto spero che abbiate trovato questo estratto interessante fatemi sapere se leggerete il libro alla prossima grazie a tutti grazie a tutti